Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione importante che riguarda un verdetto ufficiale, praticamente, per quanto riguarda il processo Juventus. Sapete che continuano le polemiche relative alle faccende della scorsa stagione, all'interno delle quali la Juve fu accusata miseramente, ragazzi, di aver, insomma, creato reati, di aver gestito reati, insomma, un sacco di accuse clamorose che la Juventus ha dovuto fronteggiare l'anno scorso e che comunque hanno portato, da questo punto di vista, ad una sorta di polemica interna. La Juve fu accusata, appunto, di tantissime cose, sapete il resto della storia, ma è arrivato adesso un verdetto veramente, veramente folle, sotto tutti i punti di vista, che rimette un pochino in discussione l'intero caso, quindi siamo qui, effettivamente, ragazzi, per parlarne tutti insieme. Cosa dobbiamo fare, però, prima di tutto, prima di iniziare, tre cose molto semplici, iscrizioni, solito like, solida campanellina, sempre per notifiche e per rimanere sempre aggiornati, mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Se voi non attivate la solida campanellina, tre notifiche, ovviamente non vi arrivano i video. Allora, che loro fossero degli incompetenti sarà capito benissimo dall'inizio, cioè benissimo, se era capito proprio dall'inizio, chiunque avesse, non lo so, almeno la capacità di ragionare su questa cosa, aveva capito che chi ci accusava era un bifolo, una persona talmente stupida e ignorante che non poteva, da questo punto di vista, passare inosservato. Bene, vi ricordate l'accusa della fattura, corretta, penna, delle fatture che sono state poi copiate, delle fatture che avevano detto che noi queste fatture le avevamo emesse, che non erano vere? Tutto quello che arriva alle fatture, praticamente le accuse relative alle fatture sospette della Juve non esistono praticamente, sono state archiviate. Quindi è caduta ufficialmente l'accusa delle fatture, che è uno dei punti più importanti dell'accusa generale, perché comunque loro avevano, tra le altre, insomma avevano cercato di accusarci in mezzo a un sacco di altre situazioni, anche di aver imbrogliato per quanto riguarda le fatture, come se, voglio dire, le fatture si potessero modificare così in maniera leggera. Ora, le fatture appena, a quanto ne so se potevano modificare anni fa, ora la fattura è un documento molto più controllato ed è un documento, oggettivamente parlando, pericoloso, perché se tu fai una fattura che non corrisponde alla realtà, di fatto puoi avere problemi legali molto pesanti. Il discorso è che loro hanno fatto passare questa idea, mediante la quale praticamente la Juventus aveva giocato su queste fatture, aveva praticamente fatto capire che la Juventus era riuscita da questo punto di vista a giocarci su, riuscita, insomma, a truccare il sistema calcio con le fatture. E adesso che succede, amore mio? E adesso che è successo, amore mio? È caduta anche questa accusa? È caduta anche questa accusa. Allora avevamo ragione noi per la quattrocentesima volta, quando siamo stati qui a parlare del discorso relativo al processo Juve, abbiamo detto, vedete ragazzi, che le accuse che provengono da questi soggetti e le accuse che provengono appunto dall'accusa generale, sono accuse che non hanno criterio e tutto quello che la Juventus ha subito l'anno scorso, l'ha subito non perché ci fossero delle accuse particolari all'interno, ma sono situazioni completamente diverse. Ora che è caduta questa accusa delle fatture in generale e che quindi le persone che stanno indagando hanno comunicato che le fatture sono in regola e che quindi la Juventus non ha niente da avere, diciamo, non c'è niente di male nel lavoro della Juve nell'attività delle fatture. Si può sapere come si fa a tornare un pochino al punto precedente? Nel senso, ora che tu mi hai accusato di tutte queste cose, mi hai detto tutta quella marea di cavolate che mi hai detto, ora chi è che per questa situazione va effettivamente a rispondere? Cioè chi è che risponde per questa situazione qua? Cioè tu hai passato praticamente più di un anno a dirmi che io avevo truccato il sistema calcio, che io avevo ottenuto dei documenti e li avevo modificati, hai fatto un sacco di casino sulle fatture, hai creato un caso mediatico internazionale sulle fatture, sul fatto che noi modificassimo, sul fatto che noi cambiassimo, copiassimo, cioè tutto quello che tu praticamente hai combinato. In che modo, cioè in che modo tu, cioè come fai adesso a ritornare nella plataforma base? Perché tu credi che questo possa partire, cioè possa essere una cosa normale? Cioè tu credi che adesso si possa far finta di niente e continuare a lavorare normalmente? Ragazzi, voi, in un paese civile, sta gente qua a finire, non finirebbe in galera con le palle attaccate e i genitali sottosopra, in un paese civile che ha la capacità civile per modo di dire, perché quello che qui stiamo dicendo non ha niente di civile, ma è un modo di dire ovviamente. In un paese normale sta gente qui sarebbe fuori a calci nel sedere, sta gente qua fuori, fuori dal sistema politico, fuori dal sistema economico. Gente di un paese normale e civile che va ad intervenire su tutta quella serie di situazioni legali che sono legate ad un caso del genere. Allora, poi non mi dovete, voi anti-juventini, perché poi ci sono anche gli anti-juventini che vengono a fare la morale qua, che vengono a parlare di morale, che vengono a dire che la Juve ha rubato e poi non sanno neanche leggere le notizie che vengono pubblicate. Allora, questa è la notizia, cioè che la Juventus è stata assolta anche per quanto riguarda la situazione relativa al discorso fatture. Adesso vedete voi come dovete interpretarla, perché per quanto mi riguarda è una cosa gravissima, cioè io non posso pensare che ci siano persone all'interno dell'Italia che hanno la capacità di votare anche, che praticamente pensano ancora alle fatture, a quello che abbiamo fatto. Ecco il verdetto sulle fatture. Adesso come risponderà questa gente? Questa gente come risponderà? Voi ancora non avete capito che l'unico motivo per cui la Juventus ha subito l'intero contesto che c'è stato è perché loro non sapevano più come colpirci. Loro non sapevano più come colpirci. Questa è la dimostrazione palese, 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 che le persone in questione non hanno niente a che vedere con il caso. Cioè è gente che non lo conosce, è gente che arriva lì, tira l'accusa a caso e arrivederci. Allora, io prima di mettermi ad urlare come un disagiato, perché veramente lo potrei fare tranquillamente, io voglio portarvi con ragionamento a questa cosa. Voi vi rendete conto che noi siamo stati accusati di ogni cosa e ogni volta c'è un verdetto che va a smetti. Cioè un discorso delle fatture è un discorso strano, perché la fattura dentro un'azienda è una cosa pubblica, nel senso specialmente se l'azienda è SPA, le fatture sono documenti che nel momento in cui ti vengono richieste tu le devi consegnare. Ok? Ovviamente sempre e comunque. Ora, se le fatture fossero state, se ci fosse stato un documento falsato o comunque ci fosse stata una falsità all'interno del caso, io penso che si sarebbe vista subito. Non è che ci vuole tempo per vedere questa cosa, non ci vuole tempo, ci vuole solamente che devi andare a prendere le fatture, devi andare a prendere i documenti, controllare se c'è qualche irregolarità all'interno dei documenti. Quindi non è un processo, cioè non è una cosa che richiede, sai, devo vedere, devo controllare. Non devi fare molto, devi solo andare a prendere i documenti e controllare se quei documenti sono in regola oppure no. Pensate a questo. Mi meraviglia, mi meraviglia che gente che prende 10.000 euro al mese, 20.000 euro al mese, mi meraviglia veramente tutto questo, mi meraviglia, mi meraviglia davvero, mi meraviglia davvero. Io ritengo che una persona che guadagni così tanto debba conoscere il regolamento e debba conoscere anche la capacità di leggere una fattura. Io penso che questa gente sia così poco colta che non sa neanche leggere una fattura. Cioè questa gente che lavora lì all'interno degli uffici, ha delle responsabilità incredibili, perché voi non so se vi rendete conto le responsabilità che ha sta gente, e questa è gente che non sa neanche leggere un documento, capite di che cosa si sta parlando? Cioè queste non sono persone che dicono ah vabbè ma noi ci siamo, ad esempio abbiamo errato, risolviamo la cosa. Loro continuano a sostenere, nonostante questa notizia, che credo sia palese, perché credo sia palese, loro continuano a sostenere che da questo punto di vista le fatture siano scorrette, che i documenti siano stati presentati siano scorretti, ma ci vedi, sai leggere? Perché se sai leggere tranquillamente quando andrà a leggere fatture ci vogliamo fare due risate a come state crollando giorno dopo giorno, come state crollando giorno dopo giorno, sempre di più crollerete nel nulla, sarete cenere alla fine del discorso, state crollando sempre di più, state crollando sempre di più. Voi non avete altro che da dire che il crollo praticamente, voi state crollando sempre di più, non sapete più che cosa dovete dire. Allora complimenti a colui che ha lavorato a questa cosa, complimenti a colui che ha discusso di questa cosa, che ha accusato l'aiuto di questa cosa e poi vediamo nel futuro quali saranno gli sviluppi, perché ora sono proprio curioso, mi siedo e sono proprio curioso di vedere di che cosa si sta parlando per quanto riguarda questa cosa. Fatemi sapere un pochino nei commenti. Ragazzi cosa dite? Faglio sapere da voi che ne pensate.